Sì, preparo, piccoli di Vigliardo e Luca di Poi. Sì, preparo, è a 7.55, sovranno le ragazze, a 4.1, Serapecca e Simone di Cano Luca. Sì, preparo, oggi Spendinico al doncino di Poi. No, è finito. 8. La prima cosa che le metti ho fatto è che la manica destra che andrà sopra. Dai, figli! Dai, figli! Prego. Ma già hai lato sulle testa, è anche poppa. Dai, figli! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! L'importante è che si gira. Grazie. Grazie.